Ogni giorno sedendoci a tavola ci chiediamo cosa stiamo mangiando veramente, ormai è appurato che in molti casi l'etichetta che fa bella mostra su confezioni di genere alimentari è fasulla, prodotti non consone alla normativa dettata dal governo italiano, entrato e perché molti prodotti entrano anche clandestinamente nel nostro paese, come sempre questo tipo di importazione vede al primo posto i paesi asiatici, dopo salse di pomodoro, formaggi alcolici e super alcolici adesso è la volta del riso che arrivato da terre lontane è diventato improvvisamente contivato e confezionato in Italia, l'ente riso ha annunciato che effettuerà severi controlli, l'ennesima grave truffa che mette a rischio la nostra salute, le chiamano etichette fake perché con la loro falsità mettono in luce innumerevoli difetti anziché dire la verità raccontano, scusate il termine, balle, c'è un regolamento europeo per la tutela dei consumatori ma troppi lo raggirano immettendo sul mercato prodotti pericolosi, ora c'è questo nuovo decreto sull'etichette già in vigore che prevede pesanti sanzioni a chi non dà precise informazioni su prodotti come pasta, pomodoro, cibi in scatola, legumi, cereali ma soprattutto il riso che è accertato provenga in parte dalla Cambogia e dalla Birmania, a questo punto vale sempre il detto senza essere nazionalisti mangia bene, mangia sano, mangia italiano